Ecco, vede? E qui c'è il quadro generale di controllo. Quando in un letto scatta la prima scarica di energia, si accende il numeretto della stanza e sotto appare il numero dei kilowatt. Mi spiego? Sconvolgente, eh? Vedete. Ah, vede? Aspira polveri. Oh, siccome i miei assistenti fungeranno da osservatori e da staffette, noi sapremo mano a mano quello che avviene in ogni stanza e il valore, e mi spiego il valore di energia espresso dai vari atti e comportamenti sessuali. Un grande esperimento. Un grande bordello vuol dire. Quando vuole, professore? Signori. Prego. Possiamo procedere. Stanza 907, coitus normalis, 5 kilowatt. Coitus arretro, 4 kilowatt. Coitus interomines, 6 kilowatt. Satisfaccio secundum onan, 2 kilowatt. Poca roba, ma tutto fa. Polluzio spontanea, stanza 708, 2 kilowatt. Strano, un crepitus ventris fa scattare mezzo kilowatt. Come? Un peto. Ha fatto scattare mezzo kilowatt. 12 kilowatt. Oh. Coitus oralis, 6 kilowatt. Coitus more bestiarum, ha quattro zampe come gli animali. Lo so. Vabbè, 7 kilowatt. Ho. 4 economy, 5 kilowatt. 5 kilowatt. Grazie a tutti.